la parola in cento parole commento il vangelo di lunedì 21 marzo 2022 a cura di frasimone stupisce e dispiace lo sdegno omicida dal quale vengono invasi gli abitanti di nazareth essi devono accettare che gesù non si chiude nel recinto della loro città la sua missione sarà universale gesù stesso infatti aveva loro ricordato due episodi storici nei quali l'intervento divino si è compiuto non per i membri del popolo del dio ma per stranieri di altre credenze religiose lo sdegno dei compaesani di gesù nasce dunque dal fatto che egli non si annuncia essere al loro servizio loro lo vorrebbero accaparrare lo vorrebbero in possesso e uso esclusivo vogliono il loro dio solo per loro invece la grazia di dio è per tutti coloro che l'accoglieranno buona giornata